Buonanotte! Buonanotte! La rivoluzione delle matite ha vinto, ha commentato il medico nella sua pagina Facebook, è il momento del cambiamento per Galatima Mertino. Buonanotte! Io voglio ringraziare tutti per la massiva partecipazione in questa competizione, sono veramente estremamente contento e felice. Io devo dire la verità, pensavo di riuscire a superarlo, però non di riuscire ad essere così, ad avere quasi un plebiscito, perché praticamente il quorum del 51% l'abbiamo raggiunto già alle 18, quindi per me è stata questa la cosa più importante, che mi ha fatto capire che tutte le persone veramente hanno capito il senso di questa competizione. Abbiamo intenzione subito di cominciare a discutere, per me per stasera ci festeggeremo, per domani, poi subito dopo ci metteremo subito al lavoro perché è importante riuscire a capire le problematiche che già abbiamo un po' avuto modo di conoscere con gli incontri di quartiere che abbiamo fatto, per cui subito cominceremo a sistemare dalle piccole alle grandi cose. Io ai cittadini intanto li voglio ringraziare estremamente per la grandissima fiducia che hanno avuto in me, devo dire la verità, io non mi aspettavo una così grande partecipazione, il che mi fa capire che i cittadini capiscono molto più di quello che è sottinteso, per cui è una cosa bellissima, è un senso di fiducia totale, per cui io non posso fare altro che da domani mettermi al loro servizio. Sottotitoli